Il binocolo è un binocolo Oxin, è un nostro brand, è un brand di proprietà di Marcucci e il modello specifico è l'HB750FW, è un binocolo completamente stagno, è un binocolo per uso nautico 7x50 la particolarità di questo binocolo è che sono diverse 7x50 sono le dimensioni della lente e 7 l'ingrandimento sono le condizioni ottimali per essere utilizzato in mare noi sappiamo bene che il binocolo per uso nautico non è lo stesso che viene utilizzato in montagna o per chi va a caccia perché oltre ad avere delle dimensioni differenti hanno delle lenti e degli ingrandimenti completamente diversi e hanno anche un grand'angolo maggiore rispetto a quello delle... perché in base alla luminosità al campo che si deve visionare chiaramente è importante la scelta poi del binocolo usano prismi di porro, sono lenti trattate sia all'esterno che all'interno sono anti fog, anti appannamento quindi la lente non si appanna altra particolarità sono a fuoco individuale quindi chi ha problemi di vista può regolarsi il fuoco in maniera individuale e possono essere utilizzati anche con gli occhiali perché gli oculari sono ripiegabili all'interno c'è una scala graduata che permette di conoscere la distanza e le dimensioni dell'oggetto che si sta guardando particolarità di questo binocolo al di là la robustezza, il materiale con il quale è stato costruito che il binocolo se dovesse cadere in acqua è totalmente impermeabile e galleggiante e galleggia, se vogliamo vederlo quindi come l'M23 anche l'HB750 può essere recuperato grazie mille, arrivederci e a presto